Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e bentonaldi sul mio canale! Oggi sono andato su Minecraft insieme a Kripper E... Sa... Ci diciamo sempre... Saluta... Ecco... Saluta... Ciao... Yes... Allora ragazzi... Adesso questo è un mondo diverso perchè non è una panilla... Ma siamo nella... qui... Siamo qui... No... E' un... E' un altro... Yes... Ragazzi guardate... Io invece sono qui perchè... Dietoli poi ci sono le regole... Ehm... Come posso dirgli? Ehm... Ehm... Ecco... Ecco... Comunque ciao ragazzi... Oggi stiamo facendo un nuovo mondo... Della... Creeper Craft... Ehm... C'è il pollo di là... Quello lì... No... Oggi abbiamo fatto un... Cante cose... Ehm... 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 Lo stesso... io lo sto lo sto aiutando a fare la fattoria è infatti yes allora così come un'altra è una creativa infatti sì no no è così è così è così poi di là cosa c'è ecco di là vediamo dobbiamo fare una cosa allora tutto simmetrico tipo perché io avevo intenzione di fare una cosa come la fai fino a qui io devo cliccare lui invece sul computer mannaggia ok eccolo rega sta venendo disamente bene questo fattoria comunque che mi aspettavo molto peggio comunque di là quindi se questo ha fatto così dobbiamo fare così certo perché il tetto lo voglio fare non con me il come come le strutture del tetto però ma vuoi tornare così è l'ultimo dovrebbe essere così ecco ci metto così ragazzi non potete capire prima che fail ovviamente abbiamo iniziato questa creeper craft e io avevo iniziato il video e poi a un certo punto mi sono accorto che quando ho fatto l'altro quando ho fatto l'altro non mi sono accorto che il video l'avevo l'avevo concluso molto prima quando avevo aperto l'inventario ecco avevo fatto un grandissimo fail vabbè vabbè così così no oi così sembra così yes yes ok ok no così è bellissimo dai cioè che stai facendo no sto distruggendo tutto no 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 ok 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 vabbè ok vabbè entro di qua com'è tipo libero ma che sta ha messo l'illuminazione forse no dai non mettere subito l'illuminazione dai fra no 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 eh come facciamo a mettere qua l'illuminazione forse questo qua ha messo pure le lanterne oh my god oh my god what is that man naga sto parlando in inglese non ditemi perché dove creeper che cosa cavolo stai facendo ma sei serio di quello che stai facendo creeper creeper mi fai fare cose grazie no no vabbè guardate guardate sto scassando tutto ma allora sicuramente non ti ha fatto niente come come xd ma perché dai perché ti sembra una una fattoria cinese bellissimo raga ora ora devo un'idea simile o così però così è più carina sì 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 allora allora io devo fare così soltanto se ci riuscirei devo fare una cosa allora shift chiudiamo chiudiamo shift chiudiamo oddio però è bellina st'idea dai come non puoi accertare la creeper sai che gioco è kingdom earth forse me lo ricordo eh me lo ricordo me lo ricordo me lo ricordo ma vagamente 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 oiii vagamente mente ecco cioè non ci giochi più senti io non ci ho mai giocato non ci ho mai giocato me lo ricordo le pubblicità vabbè non ci lo scrivo proprio non ci gioco non ci gioco mamma mia bella questa mamma mia che ho catturato ho catturato ho catturato una bellissima idea aspettate subito eh guarda qua vediamo cosa sta cosa sta ma cosa oi fra che stai facendo non lo so non lo so non lo so non so cosa stai facendo ma vabbè si scusate raga allora così allora così no eeeh così in france oi no non mi scrivere dai che sto sbagliando scusa niente o no eeeh come faccio devo fare così vediamo se si ok si si chiude bene yes c'è tipo cosa stai facendo allora mi deve spiegare cosa sta facendo mi sono morso aia mi sono morso la lingua aia mi sono morso la lingua non benissimo raga a vederla così sembra veramente una fattoria una fattoria giapponese giuro eh sembra veramente una fattoria giapponese perché c'ha tutte queste cose ce vedete c'è oi non non asini cavalli maiali cani polli io ti incorono re non me ne frega niente ti incorono re hai messo al primo posto i polli grandissimo non me ne frega niente ti incorono re e basta ma ok non così io sto mettendo solamente le botole no no oh 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 no guarda ho rotto la eh mucche mucche rosse mamma mia muto mamma mia mamma mia che hai fatto hai sbagliato completamente comunque aspetta aspetta dovrei farlo io dove stanno i cartelli dove stanno i cartelli dove stanno i cartelli qui qui cioè no oh ma tu hai preso quelli di a casa mamma mia non hai preso nemmeno questi allora quelli che 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 sono così così allora mu che e trattino trattino mo sh rom eh mo mosh rom ehi oi ma te le metto io le mucche rolle come come si chiamano ma no 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 le uova oh si fermo te stai fermo no no mi mi si il chan vuol ha che non mi mi e lupi va bene mi servono le slab corro veloce veloce ok non ti devi arrabbiare cioè sto solamente coprendo i mob gli animali cioè non vedi questo no no e qui sotto la la non capito che sono off non ti schiasso avrà mai buoni schiaffo te li rimetto fermo tranquillo ok mi dici che mi hai fatto ad avere la moda di minecraft dungeons dungeons ma è buoni schiaffa non fai tanto aspetta non è andato su play store ma gli ho detto grande non è vero tu siete mobili e infatti mi dispiace finiamo il video ok ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un like iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina e noi ci vediamo in un altro video ciao a tutti sì ok